In 2018, nel 2018, quasi 7 miliardi e mezzo di persone nel mondo avevamo 1,4 miliardi di arrivi internazionali. La domanda è, qual è la percentuale della popolazione mondiale che ha effettivamente viaggiato all'estero quell'anno per piacere? Il 3%. O per dirle in parole semplici, sono sempre le stesse persone che viaggiano ancora e ancora. Ho sentito di questi dati statistici quasi un mese fa in una conferenza di turismo ad Atene e devo ammettere che, sebbene fossi nel settore da parecchi anni, sono rimasto scioccato. Quindi, quando ho saputo di essere oggi qui, mi sentivo che dovevo condividere questi dati con voi per due motivi. Prima di tutto, volevo affrontare l'idea sbagliata, secondo cui molti di noi spendiamo il nostro tempo e denaro per viaggi di piacere internazionali. In secondo luogo, volevo mostrarvi come i nuovi dati possono causare un cambiamento di percezione. E cosa intendo dire quando dico questo? Voi, all'inizio, quando vi ho dato la prima parte dei dati, avete ragionamente pensato wow, ci sono molti viaggi. Ma subito dopo, quando avete sentito la risposta, tutto è cambiato. E avete pensato, aspettiamo un minuto, non ci sono molte persone che viaggiano davvero all'estero. Quello che è realmente successo allora è che avete interpretato gli stessi fatti sotto una prospettiva totalmente diversa. E se pensiamo a questo semplice esempio che abbiamo avuto, è esattamente questo che fa il viaggiare. Ci dà il potere di cambiare il modo in cui vediamo le cose. C'è solamente una condizione. Viaggiare nel modo giusto. E cosa intendo dire con questo? Lo continuerò con voi nei prossimi minuti. Ma prima ci facciamo una piccola parentesi. Novembre 2013. Novembre 2013. Ci sono le 10 di sera e sono seduto nel mio salotto. La Grecia, come sapete, è in mezzo a un lungo periodo di recessione. E io sono appena tornato a casa da una protesta per le misure di austerità. Mentre sono lì, seduto, un milione di pensieri passano dalla mia testa. Allora prendo il telefono e chiamo i miei genitori. Mia madre ha risposto al telefono e gli dico Mammo, vada all'estero. E lei ha detto, oh ma questo è fantastico, ma dove stai andando? E io gli ho detto, mamma no, non è per una vacanza. Io mi trasferisco in Australia. E allora il silenzio. Sono sicuro abbastanza che tutti abbiate sentito parlare del fenomeno mondiale chiamato la madre greca. Si dice in giro che può essere un po' iperprotettiva. Non è la mia madre, ma lo potrebbe essere, a dire la verità. Però questa è la mezza verità. Quando le cose non vanno bene, può essere veramente, veramente arrabbiata. Dopo aver riagganciato. Mi sono reso conto che trasferirsi all'estero sarebbe stato come unirsi a una missione su Marte. Avevo allora riconsiderare le mie opzioni. O dovevo vivere io all'estero, o dovevo portarmi l'estero a casa. E ho fatto appunto questo. Ho creato una compagnia di esperienze di viaggio in Grecia. Da quel momento il mio unico obiettivo è diventato quello di progettare il viaggio perfetto per i viaggiatori che arrivano in Grecia. Però subito ho pensato, perché alcuni viaggi sono molto migliori di altri, indipendentemente dalla destinazione o dalle persone con i quali viaggiamo? Quali sono i fattori che rendono un viaggio fantastico? Quindi dopo aver trascorso moltissimi anni viaggiando e creando viaggi per oltre 10.000 viaggiatori in Grecia ho realizzato che esistono tre ingredienti necessari per una ricetta di successo. La prima cosa che conta davvero è viaggiare responsabilmente. Prendetevi il tempo di studiare le abitudini del paese il quale state visitando. Non solo acquisterete della conoscenza, ma rispetterete la cultura locale e non solamente renderà l'esperienza più autentica, ma forse magari resterete anche fuori di prigione. Durante il vostro viaggio comprate dai negozi locali e mangiate dove la gente del posto mangia. Non sostenerete solamente l'economia locale, ma anche il vostro portofogli sarà molto più felice. È un'altra piccola cosa. Se almeno che non viaggiate in un paese dove la contrattazione dei prezzi è un'abitudine, non fatelo. Sparmiare un euro per noi non cambia niente, ma può significare moltissimo per la persona che abbiamo davanti. Può essere un pasto intero per la sua famiglia. E prima di partire assicuratevi di essere ricordati per quello che siete e non per quello che vi siete lasciati alle spalle. e la gestione dei rifiuti è diventata un gravissimo problema per le popolari destinazioni turistiche in tutto il mondo. Oltre il 15% di tutti i rifiuti solidi sulla terra viene prodotto ogni anno da turisti. Dobbiamo minimizzare i nostri rifiuti. Questo potrebbe cominciare con una molto semplice cosa come una bottiglia riutilitabile e una borsa di stoffa invece di quella di plastica. Il vantaggio maggiore, però più grande, è quello che ci fa sentire molto meglio e viaggiare in modo responsabile e di soddisfare i nostri sensi. Le esperienze sono una cosa enorme. L'aumento di... Era la risposta del mercato alla tendenza dei millennials di viaggiare sempre di più. I millennials sono cresciuti in un fenomenale epoca. In una società dove il più grande negozio al mondo non possiede articoli. è la più grande compagnia di servizi di trasporto non possiede veicoli. Sebbene siamo cresciuti allora in un ambiente di abbondanza, almeno nella parte maggiore del mondo occidentale, siamo arrivati a renderci conto che le nostre esperienze sono una parte più grande di noi delle cose materiali. Ed è esattamente questo che stiamo cercando quando viaggiamo. Perché i millennials non stanno viaggiando per divertirsi solamente. Stanno viaggiando per ritrovarci nel mondo. Questo allora che è iniziato dai millennials è diventato un fenomeno generale. Davvero ha cambiato il modo di viaggiare. Ha dimostrato a tutti che la cosa migliore che possiamo fare è investire in esperienze. e ogni volta che abbiamo la possibilità facciamo un passo superiore. Investiamo in esperienze di trasformazione e ciò che ci aiuta a diventare una versione migliore di se stessi. La terza cosa che è importante che niente di quello che io ho già detto non conta nulla se non ci sono le reazioni umane. I viaggi sono tutti per le connessioni intrapersonali. Quello che vi consiglio di fare è essere proattivi. Iniziate una discussione con un contadino locale o un vecchietto che vive in un villaggio lontano. E quando vi dico di cominciare una discussione è cercare di andare oltre la comunicazione superficiale a cui siamo abituati. Ascoltatelo e apritevi. È totalmente più facile aprirsi a una persona estranea. Provatelo e vedrete. Quando si connect quando abbiamo questa connessione guadagniamo veramente tanto. È un'esperienza che cambia la vita incontrare un ragazzo che cammina 15 km al giorno solamente per raggiungere la sua scuola. ci rende veramente grati per ciò che diamo per scontato. È un'esperienza che ci cambia la vita per rendersi conto che non importa se viviamo in Giappone o in Italia o in India. Tutti abbiamo le stesse agonie le stesse paure le stesse speranze e gli stessi sogni. il viaggio non inizia al momento nel quale arriviamo nel paese di destinazione o quando compriamo i biglietti. Il viaggio inizia nel primo momento in cui il pensiero di andare all'estero ci colpisce. se avessi allora solamente tre desideri questi sarebbero viaggiare di più viaggiare nel modo giusto e fare aiutare gli altri a fare esattamente lo stesso. vi aiuterà a evolvere e a rendere il nostro mondo un posto migliore. Grazie.